Ciao a tutti, oggi esco un attimino dalla spiegazione delle funzioni e voglio andare su qualcosa di magari anche più interessante delle funzioni, più laterale, ovvero la cronologia. Ho aperto un nuovo foglio, faccio qualche modifica, scrivo, ecco, questo è il primo foglio. Ok, adesso lui inizia i salvataggi, salvato in Drive, benissimo. Se andiamo sotto File, andiamo a cronologia delle versioni, c'è questa voce, vedi la cronologia delle versioni. Qui c'è anche l'accesso rapido, quindi CTRL, ALT, MAIUS, CAC, vabbè, comunque. Bene, qui vediamo già che abbiamo due versioni, tutte e due fatte oggi. Possiamo switchare da una versione all'altra, quindi questa è la versione corrente, io ho scritto versione corrente. E questa è la versione fatta un minuto prima, quando è nato il foglio. Ovvero il foglio era vuoto, cioè mi ha salvato, ha fatto un primo salvataggio nonostante il foglio fosse vuoto. Vado qui e vedo il testo. Attenzione, quando passo da una versione all'altra, è in sola lettura, vedete, non posso fare modifiche. Quindi, se volessi tornare indietro, andrei su questo, ripristina questa versione, oppure ripristina questa versione, oppure posso assegnarle un nome o creare una copia. Però vabbè. Quindi, ripristina questa versione, andiamo al foglio pulito. Eccolo, perfetto. Adesso, se noi torniamo sulla cronologia delle versioni, abbiamo questa situazione. Quindi, andiamo a vedere, questa è il gemello del foglio vuoto, questa è quella con scritto qualche cosa, e questa è la versione che ho ripristinato. Ok? Molto carino. Quindi, torniamo magari qua, ripristino questa versione. Di nuovo andiamo a vedere cosa è successo alla cronologia delle versioni. Quindi, è un po' come se mettesse in testa la versione che ho ripristinato, no? Versione vuota, versione vuota, versione con la scritta, versione con la scritta. Ok. Questo mi sembrava anche parecchio interessante. In ogni caso, la funzionalità delle versioni è sicuramente molto comoda, nel momento in cui ho dei fogli molto complicati, e per qualche motivo, qualche cosa si corrompe, non lo so, faccio un errore importante, tale per cui preferisco tornare indietro piuttosto che sistemare l'errore. ecco che la cronologia delle versioni ci può tornare molto utile. Facciamo ancora qualche prova. Vado per esempio ad aggiungere un foglio, quindi foglio 2, e scrivo ok, foglio 2 aggiunto, benissimo, salvataggio. Vediamo cosa succede nella cronologia delle versioni. ok, abbiamo il foglio 1, foglio 2 nella versione corrente, solo foglio 1 con una scritta, questo sarà il foglio 1 vuoto, foglio 1 con una scritta, sì, è il foglio vuoto. Benissimo. Quindi, se adesso voglio tornare indietro, ok, questa, ossia, vediamo un'altra cosa, assegniamo un nome, quindi, foglio 2 aggiunto, questo, gli diamo il nome, breve testo, questo è foglio bianco, ok, adesso andiamo, per esempio, torniamo su questa, e la ripristiniamo, ripristina questa versione, ok, abbiamo perso il foglio 2, ok, abbiamo, abbiamo completamente ripristinato, questa versione, andiamo a vedere la cronologia, qui, ho comunque la possibilità di tornare indietro su, foglio 2 aggiunto, bene, mi sono, dilungato un po', però, sicuramente, è molto carina, facciamo anche un po', possiamo fare anche un po' di pulizia, per esempio, questa magari è una versione inutile, vediamo, ripristinato, rimuovi, ah, oddio, magari non si possono cancellare le versioni, però, si può fare qualcosa di diverso, per esempio, crea una copia, copia del foglio, copia del foglio, compreso da cronologia, ok, sto prendendo questo, che è il penultimo, il penultimo salvato, crea una copia, andiamo a vedere cosa abbiamo nella, nelle versioni, non avremo nulla, infatti, non abbiamo nulla, ok, quindi ho, con questo sistema, ho, con questo trucco, ho fatto, praticamente, una copia, senza tutta la cronologia, mentre nell'originale, ho ancora tutta la cronologia, vabbè, qualche filtro, tutte le versioni, pure le versioni con nome, e, basta, video lunghissimo, scusate, comunque, mi sembrava molto interessante, questo argomento, ah, qui ovviamente, avrà creato, la copia, ecco qua, copia, di nuovo foglio, e, beh, spero che sia vinto, ci sia piaciuto, e, oh, mamma mia, scusate, qualche errore, qualche errore, di, 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 di scrittura, vabbè, pazienza, comunque si può sempre, rinominare, così ne approfittiamo, per vedere anche questa, questa funzionalità, ciao a tutti, buona giornata,